Ragazzi oggi siamo su Clash Royale ragazzi la prima volta che facciamo il video di Clash Royale Allora ragazzi io vi volevo fare vedere che siamo ancora però qualche cosa io l'ho fatto di Clash Royale Perché se no mi faccio vedere con zero giocatori non è tanto ballo ragazzi Scusate iscrivetevi al canale e iscrivetevi sui commenti se volete un nuovo video di questo Clash Royale che non c'è giocato mai Allora prima di tutto potenziamo ai nostri giocatori Però oggi ragazzi se vinciamo superate i 3000 Superate i 3000 pollici in su Vediamo Vediamo Io già per cosa io prenderei uno di questi un gigante Va bene E poi mi prenderei Pughe Uno di questi E sconcentrano Pughe Pughe Uno di questi E Sta continuando a peggiorare ragazzi No no ragazzi No ferma Oh ferma 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 Cacca ci stanno studiando Ragazzi cacca ci stanno studiando No questa cosa non è tanto bella Grazie Grazie Può essere Se vinceremo Io vi giuro Faremo altri video Poi faremo Mi sembra un video di Scribio Scribio Mi sembra che lo conoscete Perché se lo guarda Sempre la Rion VGF Ma Ma però Se se lo guarda No 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 Cacchio cacchio Che io camaggio sta Ragazzi Stemminiamo Acqua Subito Stemminiamo uno Poi Oh ragazzi Questa ce l'abbiamo fatta ragazzi Ragazzi Un botto di frecce Ce l'abbiamo fatta ragazzi Siamo arrivati Siamo arrivati Chiudiamo Il rap Sì 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 non la vinceremo ragazzi va male ragazzi no no va troppo male ragazzi no 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 ragazzi no 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 ragazzi siamo sterminati niente non c'è nulla da fare va 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 ragazzi ragazzi no siamo mort siamo mort sono dei pezzi di merda ragazzi niente niente di niente ragazzi va bene va non ci arrenderemo così ragazzi noi non ci arrendiamo mai e noi non ci arrenderemo mai mai nessuno al mondo scrivetemi sicuramente se volete un altro video da Michael out se volete un altro video è tutto per voi grazie